Mattai Vita di slancio al comando su Musica e Magia che è rimasta a largo con Nautilus Miller, azione di sfondamento di Nautilus Miller e di Musica e Magia, Musica e Magia che insiste, Nautilus Mattai Vita e quindi Nautilus che passa su Mattai Vita, poi il numero 8 di Orchidee HVD, poi gli altri fuori, in avanti l'errore dietro di Hortensia Almar, in avanti il numero 7 di Nautilus Miller, poi dalle retrovie lo scatto di un paio di concorrenti, Nautilus a menare la danza, nei confronti del numero 1 c'è a largo Musica e Magia, Orchidee HVD che prova la risalita, in avanti il numero 7 di Nautilus Miller, largo Orchidee HVD, quindi Mattai Vita, poi gli altri con Nautilus Miller, Mattai Vita, l'errore di Musica e Magia, quindi Orchidee HVD alle prese con il numero 2, poi il numero 15, dalle retrovie lo scatto da parte di Olimpia e G, in avanti è sempre comunque Nautilus Miller, Mattai Vita, ancora Orchidee HVD, poi gli altri con il numero 11, poi viene via anche il numero 16 di Nogaine, in avanti Nautilus Miller, Nautilus Miller che controlla la situazione, Mattai Vita, ancora Orchidee HVD, quindi a largo anche il numero 15, a largo anche il numero 13 di Magic Daini, viene via a largo anche il numero 1 di Mattai Vita, quindi Mattai Vita attacca a fondo il numero 7, Mattai Vita che sta passando, sta passando Mattai Vita, allargo anche One More Time, nel tratto conclusivo riesce a impensierire One More Time Mattai Vita, ma Mattai Vita vince, secondo posto è il numero 15 Mattai Vita, di One More Time, al terzo Orchidee HVD, vittoria per Mattai Vita, 1-15-8, l'arrivo ufficioso di questa corsa. Grazie.